Siamo qui, a quelli che aspettano l'H24 perché è pieno di partire pure oggi, la monetina, qual è bene? Mi piacciono il suo pareggio, saranno tanti i palermitani a Francioni, però 2,85, una della regina perché è l'ultima chance per il cittadino, di salvezza, e poi si è razionata praticamente... Un gol start in radio, si vedeva che era il giocatore che aveva nelle gambe, soprattutto nella testa, la capacità di rompere l'equilibrio...